Harry! Harry! Che stai facendo? Non importa. Sto bene. Tutto qui? Sei sparito per settimane. Tenendomi all'oscuro, facendo preoccupare tutti, mi dici che stai bene. Dove sei stato? Te l'ho detto. Non importa. Harry, perché non cerchi di ascoltarmi solo per... Non hai niente di cui devi preoccuparti. Non devo preoccuparmi di... Hai abbandonato tutti quanti! Tu vuoi parlarmi dell'abbandono della gente? Non riguarda questo! Si tratta di Gwen! Lo capisci oppure no? Lei è morta. Lo so. E tu dov'eri? Perché non ti ci hai fatto vedere? C'è stato un funerale. E c'erano tutti. E-mail. Liz. Flash. Jonah. Tutti. Mentre tu vagavi. Facendo quello che volevi. Nascondendo... Mio padre è morto! Pensavo che voi persone evolute l'avreste potuto capire. Scusa, io... Io non... Non sei l'unico che ha perso qualcosa quel giorno. Ma non vuoi ammetterlo perché sei troppo egoista per pensare agli altri! Niente è mai un problema finché non ti riguarda! Non ti ho visto per settimane! Poi ti trovo svenuto e la prima cosa che mi dici è che va tutto bene. Ascolta, so che tuo padre è morto. Basta. Sto solo cercando... Ho detto basta. È solo che non puoi... Basta! Pensavo che avremmo superato le nostre differenze per capirci a vicenda, ma non è così! Io non ti devo niente! Ti ho dato un posto per vivere! Soldi quando ti servivano! E spero davvero ti senta in colpa per tutto questo, codardo! Perché sei qui allora? Perché non te ne vai? Harry aspetta! Mi dispiace... Continua ad allontanare le persone. Vediamo chi resta.